Nei primi sette mesi del 2021 in provincia di Chieti le truffe ai danni di anziani denunciate sono state 98, il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Un fenomeno preoccupante che ha spinto la Questura a lanciare la campagna di prevenzione e la sicurezza non a età e a Chieti, all'auditorium dell'Università d'Annunzio, si è svolta una manifestazione alla quale hanno partecipato sindaci, rappresentanti delle istituzioni civili e religiose, delle forze dell'ordine e delle associazioni del territorio. A conclusione dell'incontro, nell'ambito della manifestazione La Notte Europea dei Ricercatori, nel campus dell'Ateneo, ad impreziosire l'iniziativa, il concerto della Banda della Polizia di Stato presentato dalla collega Jennifer Di Vincenzo, che ha intervistato il questore Annino Gargano, il quale ha lanciato un appello ai sindaci affinché vengano implementati sistemi di videosorveglianza cittadina con ulteriori telecamere che consentano di acquisire dati utili sia ai fini preventivi che repressivi con l'obiettivo di dotare questi impianti di sistemi di rilevazione delle targhe che permettano un monitoraggio in tempo reale dei veicoli. I numeri sono purtroppo alti, è vero che l'attività di prevenzione e di contrasto ha i suoi risultati però occorre necessariamente sensibilizzare in uno sforzo comune verso un rinnovato impegno non solo delle istituzioni, delle forze di polizia, degli enti, associazioni, parrocchie perché no, anche degli organi di informazione per far sì che il livello di attenzione si alzi sempre più ed evitare che i nostri cari, i nostri anziani cadano facili prede di questi malfattori assolutamente privi di scrupoli.